Più che visione mi evoca molti anni della mia vita. Io se non ho fatto proprio del volontariato ci sono stato vicino perché per molti anni ho lavorato con e ho avuto vicino a me il gruppo Abele e poi Libera. Sono attività di volontariato utilissime non soltanto per la collettività ma per i singoli componenti della collettività perché aiutano a vivere meglio tutti quanti insieme, creano una convenienza civile più produttiva di risultati che si possono qualche volta misurare concretamente. Pensiamo una visione che vale anche per il futuro alle terre sequestrate e confiscate dai mafiosi che vengono lavorate e coltivate da cooperative di giovani volontari che in questo modo producono libertà, diritti, cittadinanza, recuperano dignità e onore nelle terre di mafia. Ecco questa che un tempo era una visione adesso è diventata una realtà. La materializzazione quotidiana della legalità ecco il volontariato per me è qualcosa che può fare sempre di più su questo versante.